E' stato presentato ieri pomeriggio nella sala d'onore del CONI a Roma il calendario della prossima Serie C, suddivisa come di consueto in tre gironi. Partirà domenica 25 agosto dallo stadio Nicola Ceravolo di Caltanzaro il cammino nel Girono C in campionato per il Teramo, che troverà subito quella che è stata la terza forza in campionato del raggruppamento della scorsa stagione a testare le proprie ambizioni nel torneo. I ragazzi di Mister Terino faranno il loro esordio al Bonolis il primo settembre con la Sicula Leonzio nella seconda giornata. Un percorso lungo 38 giornate che si concluderà affrontando il Catania, altra squadra nobile del Girono C, indicata tra le favorite. Al Partenio contro l'Avellino la terza giornata, mentre l'atteso confronto con il Bari è previsto nel Girono di Andata allo stadio San Nicola il 24 novembre, con la gara di ritorno tra le mure amiche che si giocherà invece in primavera il 5 di aprile. Il Diavolo chiuderà il 2019 al Bonolis il 22 dicembre proprio contro il Catanzaro nella prima gara del Girono di Ritorno e tornerà in campo dopo la sosta il 12 gennaio. All'evento di presentazione coordinato dal giornalista Rai Jacopo Volpi erano presenti i presidenti del CONI Giovanni Malagò, della FIGC Gabriele Gavina e il presidente della Lega Pro Francesco Grielli. Per il Teramo c'erano il presidente Franco Iachini e l'avvocato Fabrizio Acronzo. La Serie C sarà a 60 squadre perché dopo l'accoglimento dei ricorsi per la mancata missione di Bisceglia e Cerignola da parte del Consiglio di Garanzia del CONI, la FIGC ha varato la missione solo del Bisceglia, in seguito ad un sovraluogo dello stadio Monterisi di Cerignola effettuato nella giornata di ieri che non sarebbe a norma per quanto concerne le caratteristiche del campo di gioco, decisione contro cui la società pugliese si appellerà ancora.